Le condizioni di Matteo Leone erano subito apparse gravissime a causa delle gravi lesioni da trauma subite nell'incidente. Un lungo intervento chirurgico durato diverse ore non è servito a stabilizzarlo ed il suo cuore ha cessato di battere nel corso della notte tra la disperazione dei familiari, della compagna e degli amici che avevano pregato a lungo invocando un miracolo. Matteo Leone, 34 anni, stava lavorando all'interno del porto, era quasi a fine turno quando un carrello elevatore condotto da un collega lo ha travolto. La dinamica è ancora da chiarire con la polizia di frontiere e gli uomini della guardia costiera che dovranno ricostruire quanto accaduto in quei terribili attimi. Matteo Leone è stato investito e travolto dal carrello. I soccorsi sono stati immediati. In pochi minuti il 34enne è stato trasportato a Ruggi di Salerno. È stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico durato alcune ore ma con il trascorrere del tempo le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte sopraggiunta nel corso della notte. Matteo Leone era molto conosciuto in città, figlio del centro storico di Salerno. Il papà fu vittima anni fa di un altro grave incidente al porto ma si salvò dopo mesi di cure. Molto devoto, era uno dei portatori della stauta di Sant'Anna ed appassionato di calcio e tifoso della Salernitana. Una persona buona dalla grande umanità socievole lo descrivono così in tanti. Una vita spezzata troppo in fretta, quella vita che di recente lo aveva già messo a dura prova. Matteo Leone aveva lottato e vinto la sua battaglia contro una grave malattia. Quella di Matteo Leone riporta alla memoria altre tragiche scomparse sul lavoro al porto di Salerno dove nel novembre del 2016 perse la vita il 34enne Lino Trezza, travolto dal mezzo portacontainer che guidava, mentre un anno dopo morì Beniamino Ottafuri investito da un carrello.